ciao a tutti meraviglie il video tutorial di oggi diverte su un semplicissimo fiorellino che ho utilizzato ultimamente per fare una copertina ed è veramente molto molto carino per realizzare il nostro fiorellino io utilizzo un filato di un colore abbastanza squillante in modo che voi poi possiate vedere meglio la lavorazione come faccio sempre come sapete nei miei video tutorial e in questo caso utilizzo un uncinetto numero 3 per fare il nostro fiorellino inizieremo con un anello magico di 10 maglie basse sapete se che se non sapete come si realizza l'anello magico vi basterà andare nei miei tutorial dove troverete tutte le basi dell'uncinetto quindi facciamo le nostre 10 maglie basse all'interno dell'anello magico dopodiché procederemo con lo svolgimento del nostro fiorellino terminate le 10 maglie basse tiriamo il filo più corto e chiudiamo l'anello magico a questo punto dobbiamo realizzare una serie di catenelle 9 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 catenelle che andremo ad agganciare nella maglia bassa successiva quindi qui e chiudiamo con un'altra maglia bassa altre 9 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 catenelle che andremo ad agganciare nella maglia bassa successiva ancora quindi qui e procediamo così per tutto il giro quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 catenelle e andiamo ad agganciarci nella maglia bassa successiva chiudiamo sempre con una maglia bassa e procediamo così finché non abbiamo terminato tutto il nostro giro sono arrivata all'ultima delle striscettine di catenelle andrò ad agganciarmi quindi nella prima catenella dalla quale sono partita e chiuderò il mio giro con una maglia bassissima con una catenella maglia bassissima tiro e poi andrò a fare sparire il mio filo di lavorazione con un ago prendo il mio ago da lana appunto arrotondata inserisco il filo all'interno della cruna e vado a farlo sparire all'interno della lavorazione stessa ve l'ho fatto vedere diverse volte una volta in più non guasta mai in questo modo la rovescio ovviamente del fiorellino e taglio e procedo con l'altro filo ovviamente faccio la stessa identica cosa e vado ad inserirlo all'interno della lavorazione in questo caso andrò a farlo nella prima riga di maglie basse si nasconde molto meglio tiro e taglio ecco qui il nostro simpaticissimo e velocissimo fiorellino terminato vedete è molto molto veloce da fare ci vuole proprio un attimo ed è carino per guarnire per imprecciosire magari un lavoretto semplice facendone un gruppettino diventa una componente molto molto simpatica per arricchire i nostri lavori all'uncinetto bene il tutorial è terminato il velocissimo tutorial è terminato come al solito vi ringrazio per avermi seguito spero di avervi fatto cosa gradita nel farvi vedere questo piccolo e semplice fiore e ci vediamo al prossimo tutorial con un altro fiore magari un pochino più complicato un bacione a tutti ciao ciao